Ciao a tutti! Oggi facciamo un video un po' più particolare. In sostanza, volevo montare queste creazioni qua in un... scusate, adesso c'è un po' di casino, adesso piano piano vi faccio vedere che cosa devo fare. In uno di questi qua, ok? Questo è un braccialetto, ma siccome ha tanti spazi, non saprei come utilizzarlo, lo comprai tanto tempo fa, indovinate dove? Sulle bimbi! Sì, si è fatta ricca Elisa con me! Però, comunque, comunque sia, ed è della misura di questi cabuchon qua. In sostanza, adesso andiamo a dividerne due di questi, li puliamo un po', perché questo è un ottone anticato, li puliamo un po', ecco l'attrezzino, dopodiché andremo a placarli in argento. Allora, non devo fare nessuna operazione, questo piattino mi serve per placare in argento oggetti piccoli, tipo questi, ok? In sostanza funziona così, io ho una soluzione, che è questa qua, che la comprai dalla Tifo, elettrolito d'argento. È una soluzione in cui sono, diciamo, sciolte delle parti di argento e servo, appunto, per andare a fare una placatura di argento. Ci serve, vabbè, l'elettrolito, una vaschetta in acciaio, che aiuta a far da conduttore, naturalmente, dei cavetti, e adesso, se riesco a farvela vedere, vi faccio vedere anche... Allora, in sostanza abbiamo un cavetto, tipo questo, che arriva a questo macchinario qua, che non è altro che una, come si chiama, batteria? È lo stesso! Serve per emanare elettricità, ok? Noi l'accendiamo, questa qua, che si accende così, dà il voltaggio, gli ampere, qui si possono regolare il voltaggio e ampere, dà una scarica elettrica a questo, e a questo, che in sostanza non è altro che una penna di graffite, sappiamo che la graffite è conduttiva, e dove ha una punta in feltro, in sostanza la punta in feltro viene imbevuta nel... adesso comunque ve lo faccio vedere, nella soluzione di argento, con elettricità sulla penna, questa elettricità positiva sulla penna è negativa sopra, la vaschetta è conduttiva, e quindi riusciamo a lavorare, deve stare per forza attaccata, questo, altrimenti solo la penna non funziona. Bene, allora, adesso noi, spegniamo un attimo qua, che dopo lo attacchiamo, andiamo a pulire i pezzi, li apriamo, pinze, e uno l'abbiamo liberato, mi sento ubriaca, bene, e l'abbiamo liberato, questi due. Allora, dopo faremo, placchiamo questo, le andiamo a pulire, con la nostra amica spazzolina di ferro, e andiamo a togliere praticamente tutta la parte anticata, anticata dell'ottone. non è semplice, qui ci si va a rovinare un po' le mani, la spazzolina lì, vedete, un po' abbiamo tolto, vedete che è più lucido, che un po' l'abbiamo, l'abbiamo pulito, lo stesso si fa davanti, perché comunque va argentato tutto, ci vuole un po' di pazienza, quasi quasi ora stop, perché comunque è un lavoro che è un po' lungo, e poi ci rivediamo dopo per fare il resto. Eccomi tornata, allora, la differenza si vede insomma, l'ho pulito, vedete, questo era anticato, questo l'ho pulito, si vede anche sul retro, lo andiamo a fare, allora, adesso bisogna che mi metto i guanti, perché è da, guanti, perché è da sgrassare il pezzo, perché non può residuo di grasso della pelle, residuo di altre cose, e uso questo, lo sgrassante galvanico, questo lo comprei su Antichitabelsito, adesso con un dischettino di cotone, andiamo a fare questo procedimento qua, e lo andiamo a pulire, bene, lo sgrassiamo per benino, un po' viene ripulito, dal, dagli eccessi di patina, che non sono riuscita con la spazzolina, a togliere, viene lucidato, vedete qua anche c'è, il residuo della patinatura, diciamo che l'abbiamo sgrassato a dovere, lo mettiamo qua dentro, spostiamo questo, e adesso facciamo un po' di zoomino, perché la parte è interessante, è qua dentro, zoomiamo un po', allora questo è il nostro pezzo, allora a due punte, vedete, c'è questa, o questa qua, lo andiamo a inserire, dentro la penna, adesso non guardate che è un po' sporca, perché comunque l'ho usata, andiamo a agitare un po', io adesso la soluzione la tengo dentro a un barattolino di vetro, andiamo a aprire, senza rovesciare nulla, è praticamente in colore, e ci inseriamo la penna per un po' di tempo, perché si deve ben impregnare, accendiamo la nostra attrezzatura, questo un po' se è impregnato, poi piano, già tutte le volte bisogna andarlo a rintingere, perché si consuma una cosa, e andiamo, ok, bene, adesso verrà un po' scurito, brunito, ma poi dopo, una volta lucidato, vedrete la differenza, mi da un po' di piccole scosse elettriche, il fondo, adesso questo metodo qua, fa un piccolo, un piccolissimo strato di placatura, con la penna così, è una cosa molto lieve, quindi ci vogliono un pochino più, più passate, altrimenti bisognerebbe fare un bagno, un bagno galvanico, la cosa che uso poi per fare, si lascia una molla nella soluzione, sempre con il metodo dell'elettricità, e poi si depositano i spessori molto più elevati, non pensate che venga grosso, elevati nel senso che, questo è proprio uno strato sottile, adesso vi faccio vedere, bene o male com'è il risultato, rispetto a prima, ecco, vedete, è stato argentato, ora è da pulire e lucidare, tutto, ma questo è il risultato, da un pezzo di ottone, abbiamo fatto un pezzo di argento, magia, eccoci tornati, allora, adesso larghiamo un po' l'inquadratura, giusto per, allora ho messo, qui c'è dell'acqua, ho messo a mollo per lavarlo un po', qua c'è del bicarbonato, e acqua, lo sapete no? non so se lo sapete, io te lo dico, il bicarbonato è ottimo, si fa una pappina, di bicarbonato e acqua, ed è ottimo per lucidare l'argento, lo lucida proprio, li cava tutte le impurità, e lo lucida proprio, allora noi avevamo il nostro pezzo di argento qua, vedete che comunque già, una volta che è stato lavato, c'è già un'altra faccia, e ora lo andiamo a lucidare, se nella lucidatura, vedete questa, facciamo così, mettiamoci qua, sul nostro sfondo, prima che lo sporchiamo, se nella lucidatura, la patina non mi soddisfa, perché magari è troppo sottile, sotto si vede, il, come si chiama, il bronzo, io lo vado poi dopo, a ripassare di nuovo, faccio lo stesso procedimento, lo lavo, lo sgrasso, e poi comincio da capo con la penna, perché può capitare, una volta che è passato il lucidato, che sia troppo leggera, la patina si cava, comunque questo, il bicarbonato è ottimo, per tantissime cose, uno magari lo sottovaluta, però è, è cosa, veramente, è multitasking, vedete qui dopo, nella parte, il bicarbonato, dove diventa scuro, è perché ha tolto la patina, lo ripassiamo nell'acqua, lo andiamo a sciacquare, ora, lo asciughiamo, lo passiamo, questo è un panno, è sporco, per la lucidatura dell'argento, è imbevuto, che poi si può usare, tipo l'argentino, qualsiasi cosa, ed è imbevuto in una sostanza, che lucida l'argento, andiamo a, farci una strisciatina, ulteriore, facciamo così, ci allarghiamo un po', l'inquadratura, perché se no, la fotocamera non mette a fuoco, e voilà, abbiamo fatto la magia, la magia, ecco qua, il nostro pezzo, si, sarà, da andare a ripassare un altro po', però, comunque, questo è, il prima e il dopo, eh, non è una magia, ci mettiamo sopra, il nostro cabochon, e sotto, volevo metterci, eh, pu 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 pu, allora, ho 50.000 scatole, di pietre dure, io amo le pietre, allora, andiamo a vedere, qui, qualcosa che ci possa somigliare, no, perché, ah, queste, queste mi piacevano, però non so se ci stanno bene, queste sono, ve lo dico, le agata drusi, che belle che sono, rainbow, sono davvero favolose, vabbè, eh, ragazzi, hobby perline, guardate questa, che bella che, che ha, che ha, i brillantini dentro, brillantini, i cristallini, allora, vediamo un po', questa però ci starebbe bene, dov'è quella che c'aveva i brillantini dentro, questa, questa però sarebbe la sua, avevo intenzione di metterci questa, poi vabbè, sono tutte catalizzate, catalogate, abbiamo dell'acquamarina, dell'amazonite, dell'avventurina, del, eh, turchese, turchese qua, dell'avventurina anche qui, della, la, zoisite, scusatemi, ma, il problema, della mia, del, del mio romagnolo, è che la S e la Z, si fa fatica a pronunciarle insieme, non so, io faccio una fatica boia, quindi, una zoisite, che è questa, zoisite, anche questa, abbiamo della malachite, la malachite, mi piace da morire, della florite, 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 questa è tutta la parte bianca, bianca qua, ci sta mica tanto bene, bianco, aspettate, bianco qui, con questo, non è che, no, no, neanche il quarzo rosa, non ci sta bene, anche se questo, farebbe molto marino, questo ci sarebbe quasi bene, sarebbe quasi marino, però, ma la parte bianca, no, va bene, questa è la parte, rosa rosso, è divisi per tonalità di colore, forse qua, ci potrebbe stare bene, della papua, che sono queste, che la fotocamera, non rimette neanche a fuoco, ma sono belle, però, non è che ci azzeccano tanto, secondo me, quella che di prima, era quella che ci andava meglio, abbiamo deciso, qua tutto nero, perché c'è della, onice, e, onice, onice e matite, e della tormalina, della tormalina, tormalina, quarzo tormalinato, ecco, che è questo, bene, ora, diciamo, la situazione è questa, arrivo, adesso qua, ho cambiato un po', le impostazioni, del tavolo, questo, è l'originale, e questo qui, è quello, argentato, era questa, quello che mi piaceva, adesso, guardate che bel gioco, bene, abbiamo deciso di usare questa, allora, mettiamoci così, allora, praticamente, in argento, io non ho, chiudini, quindi, lo andremo a fare, andremo a fare, lo andremo a fare noi, voglio provare a farne uno, così, voglio provare a farne uno, così, questo è una 0,5, vediamo se viene, abbastanza grosso, da non far passare, vediamo, un po' lunghino, perché comunque, c'è da farci fare, tutto il giro, prendo le mie amate, torchesi, le mie amate, tronchesi, mamma mia, io e l'italiano litighiamo tutti i giorni, ne taglio, un pezzetto, la fiamma, sperando sia carica, andiamo qua, nella nostra, terza mano, e ora andiamo a creare, e abbiamo fatto il nostro pallino, senza dar fuoco niente, il nostro pallino è formato, vediamo se ci entra, e non esce, nella nostra palla, yes, ci entra la perfezione, lo vado a pulire, con un po' di acqua calda, e acido citrico, che serve per togliere, l'ossidazione, della fiamma, della fiamma, dall'argento, dal rame, da qualsiasi cosa, e torniamo tra poco, ci diamo una passatina, con il nostro, coso, vedete, si mette a fuoco, è lucido, sono brava, no? avevamo detto, che ci mettevamo questo, ci mettevamo questo qua, questo cabochon, qui, lo devo andare a limare, un po' sul retro, sono un puffo, sono un puffo, allora, io come colla, uso questa, secondo me, è una tra, le migliori, in sostanza, è una colla, da contatto, nel senso che, va messa, un po' di colla, sia qui, sia qua, e poi, va incollato, una volta che si è fatta, questa operazione qua, la colla, tiene, tiene, non c'è, non c'è verso, allora, noi abbiamo, la nostra pietruzza, qui, la mettiamo per così, sì, direi proprio di sì, allora, pinze, tonde, eccole qua, e ora andiamo a creare, sperando che la fotocamera, rimanga, a fuoco, io però, ragazze, guardo fuori dalla fotocamera, andiamo a creare il nostro occhiello, questo, questo, qui, e poi vado a fare un giro, non è semplice, però, è un modo per, per, per non, dai, la prima volta che lo faccio su una videocamera, quindi abbiate pazienza, ecco, ecco, giriamo un po', ecco qua, ho fatto un nodino da orefice, adesso con le pinze, vado a tagliare, poi andiamo a chiudere, poi andiamo a chiudere il nostro nodino, non vedo un cappio, bene, e abbiamo creato il nostro cionolino, guarda che carino, adesso ci andiamo a incollare sopra, adesso ci spostiamo un attimo, ci mettiamo qua al centro, lo facciamo qui, qui, allora abbiamo detto, la colla, senza esagerare però, un po' qui, perché sennò, poi dopo, sborda, si toglie, una volta che sborda si toglie, ma un po' qui, contatto, vediamo per mutuo, per un pochino, guardate che carino, il cionolino, io l'ho messa così, ma potevo guardarci, però come l'appoggiavo, non ci ho guardato, però mi piace, anche se sopra la poglia oro, forse se era di là, era più carina, però adesso non si stacca più, adesso montiamo l'anellino, montiamo questo anellino qua, così, a chiudere l'anello, l'anellino, avrei potuto saldarlo, per chiuderlo, ma ormai ho attaccato, sia il cabochon, che la pietra, e non, non si può più fare, ecco, abbiamo attaccato la collana, ed ecco qua, il nostro ciondolino, in argento, con una nostra creazione in resina, e questo paciolino, qui sotto, eccola qua, la nostra catenina, è finita, bella eh, sono brava vero, dai ditemelo, ditemelo, ditemelo che sono brava, mi piace, è venuta bene, poi questa, questa Agatha Trusi, ci sta veramente bene, bene, è bellino però eh, dai ditemelo, è venuta bene, mi piace, bene, allora, su questa meraviglia, io vi saluto, questa Agatha è bellissima, su questa meraviglia, io vi saluto, bene ragazzi, il video finisce qua, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, se vi piace questa tipologia di, di esperimenti, di video, ditemelo che ne farò altri, se vi piace stare in mia compagnia, iscrivetevi al canale, che dire, è meraviglioso, sono troppo brava, vabbè, vi saluto, ciao ciao,